Ciao ragazzi, ecco a voi un nuovo video in questo video vi farò vedere la mia idea di nail art per capodanno ovviamente come sapete capodanno nero ho fatto una mano diversa dall'altra perché proprio mi andava durante lo svolgimento di fare questo cambiamento comunque è un france nero con monocolore nero paillette argento paillette sulla destra nere come righettina e righettina argento sulla sinistra fatemi sapere qual è delle due idee che vi piace di più come un corrente un giallo smalto nero, un giallo smalto glitter la colla, le paillette nere e argento e degli strass ora iniziamo col procedimento prendo il mio nero, questo è un nero di Milano scegliete il nero che volete mi raccomando mescolato molto bene perché come sapete i pigmenti tendono ad andare verso il basso poi cosa dovete fare? una volta mescolato fate il vostro france normale vi ricordo che io qua ho fatto la ricostruzione quindi ho usato il cover ho fatto la bombatura dopodiché faccio il france se fate con i gel dovete mettere lampada a catalizzare se fate con gli smalti aspettate che asciughi ovviamente la catalizzazione del nero perché è molto pigmentato richiede almeno 4 minuti di lampada ricordatevi questa cosa comincio a fare il france nel solito modo poco prodotto in punta stenderlo molto bene fare un sorriso che sapete che le unghie sorridenti sono più belle di quelle proprio dritte quindi un bel france sorridente copritemi raccomando bene bene la punta perché in questo caso si noterà molto di più lo stacco se le guardate da davanti quindi mi raccomando ricordatevi assolutamente questo passaggio di coprire bene 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 la punta una volta che avete stabilito che è tutto a posto che vi piace che è perfetta mettete la lampada a catalizzare come vi dicevo se usate invece gli smalti aspettate un attimino che il tutto asciughi mi raccomando essendo un colore scuro aspettate tanto perché sennò veramente poi lo portate via per quanto riguarda invece gli annulari di ogni mano faccio il mogono colore nero come sempre poco prodotto stendolo molto bene fate la prima passata molto sottile poi mettete la lampada a catalizzare e date la seconda mano con lo smalto vedete un attimino voi se è poco o molto coprente anche in questo caso attenti a non toccare le cuticole coprite bene soprattutto la punta per lo stesso motivo di prima come vi dicevo e vi ho detto ormai parecchie volte uso questo nuovo pennello di crystal che è veramente perfetto come vedete nella stesura del monocolore è veramente perfetto mi aiuta tantissimo e mi piace da morire mettete la lampada a catalizzare come vi dicevo sulla mano sinistra mi è venuto lo schizzo di fare la riga glitterata quindi potete prendere uno smalto potete prendere come in questo caso il gel glitterato e lo dovete mescolare oppure potete prendere anche i colori acrilici insomma decidete voi con cosa fare la righettina prendete lo spot io utilizzo lo spot prendo un po' di prodotto e comincio a delineare la riga di sorriso sotto il french cosa faccio? io faccio una righettina così di bozza mettendo il prodotto poi con lo spot dalla parte più piccola che io ho alla punta diciamo quasi ad ago comincio a stenderlo la righettina non deve essere ovviamente troppo alta perché se no è brutta da vedere più sottile potete meglio è dato che avete fatto la bombatura in questo caso o almeno io devo stare attenta a non fare una riga troppo spessa perché se no verrà una cosa bruttissima quindi prestate molta attenzione questa cosa come vi dicevo può essere fatta tranquillamente anche con gli smalti poi mettete la lampada a catalizzare come cosa ulteriore metto uno strassagento su tutte le unghie per brillare molto di più e sul pollice invece ovviamente di ambe e due le mani metto non più uno strass ma tre come sapete io preferisco i numeri dispari quindi ne metto tre ovviamente lo strass potete attaccarlo con del gel base del sigillante oppure anche della colla ovviamente se usate qualsiasi cosa inerente al gel va la lampada a catalizzare se usate la colla aspettate che asciughi molto bene ovviamente essendo capodanno scusate mi piace un qualcosa di eccentrico mi piace qualcosa di molto luminoso quindi gli strass sono proprio la cosa più esatta di questo momento l'altra mano mi è venuto lo schizzo di farla diversa poi vi spiego perché comunque cosa dovete fare prendete il vostro anulare prendete del gel base del sigillante o della colla lo stendete e cominciate a mettere gli strass ovviamente lo strass dovrebbe essere inserito uno per volta è un po' sbattimento è un po' lunga come cosa però a me piace da morire cosa ho fatto non ho riempito tutta l'unghia che potete anche riempirla ma ho fatto diciamo quattro colonne solamente che in fondo le ho un po' tondeggiate come avete visto cioè non ho fatto quattro righe verticali una di fianco all'altra sì ne ho fatto quattro però l'ho fatto un po' incurvate che secondo me è molto più carino ovviamente sia la mano destra che la mano sinistra come vedete è un lavoro un po' lungo ve lo devo dire ve lo ammetto però mi piace tantissimo avevo già fatto una prova e mi era piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di riprodurlo in questo modo potete anche scegliere di fare tutta l'unghia qua diventa una cosa proprio a gusto personale se vi piace così eccentrica o meno perché così si vede non si vede da luce e non da luce a secondo di come muovete la mano se invece ovviamente fate tutta l'unghia ovviamente si vedrà tantissimo se usate il gel non ci sono problemi potete aspettare tutto il tempo che volete quando avete posizionato bene tutte le paillettes le mettete in lampada a catalizzare se usate la colla mettete la colla solo in un punto mettete le paillettes poi andate avanti perché la colla si secca molto più velocemente anche qua le paillettes dovete stare attenti di metterle bene una per volta nel senso che le paillettes ogni tanto rischiate di prenderne due o tre insieme e se ne mettete due o tre una sopra l'altra fa molto spessore quindi prestate attenzione che proprio sia una sola la paillette che state appoggiando ovviamente poi mettete in lampada a catalizzare almeno tre minuti che il tempo è di catalizzazione del gel con la colla aspettate le paillette si trovano ovviamente in tutti i centri ricostruzione su internet su ebay insomma le paillette potete veramente comprarle dove volete prestate solo attenzione alle grandezze perché vendono anche le paillette molto più grandi quindi dipende a vostro gusto personale o quello che comunque voi state cercando se prendere più grande o più piccole come vi dicevo ho fatto una mano diversa dall'altra perché durante lo svolgimento quando poi ho messo le paillette mi è venuto lo schizzo di utilizzare anche quelle nere e quindi ho detto ma sì tanto non è una cosa talmente diversa che sta male ma è una cosa comunque carina quindi la sinistra ha la righettina glitterata la destra ha le paillette nere tra le due io preferisco quelle con le paillette nere mi sembra molto più elegante ditemi qua sotto voi se preferite quelle nere oppure la righettina argento ditemi un po' voi comunque cosa dovete fare per farla mettendo un po' di gel base sigillante o della colla sulla riga del french e poi anche qua uno a uno mettete delle paillette tenete una piccola distanza decidete voi quanta e niente applicate le paillette dopodiché mettete la lampada a catalizzare se invece utilizzate la colla aspettate che asciughi le paillette possono essere messe benissimo con lo smalto quindi non c'è proprio diversità nella scelta della nail art come vi dicevo scrivetemi qua sotto allora cosa pensate di questa nail art se vi piace più la destra o la sinistra anche nella destra poi ho messo tutti gli strass uguali identica alla sinistra questa è stata la mia idea per capodanno veramente spero tanto che vi piaccia potete riprodurla con tutti i colori che volete sapete che a me capodanno piace nera e così ho fatto un grosso bacio a tutte quante ancora buonissimi auguri di buon anno e felice anno nuovo ciao 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 ciao